Italia medaglia di bronzo, Ivan Zaitz è grande protagonista della partita e grande protagonista del finale con quella lunga serie in battuta. Sì, siamo contenti, volevamo dimostrare ancora una volta che il nostro orgoglio è grandissimo, abbiamo fatto una reazione dopo la delusione della partita di ieri e credo che se si è visto in campo andiamo a conquistare la medaglia di bronzo adesso, la medaglia d'argento ad una Coppa del Mondo e la qualificazione a Rio in un mese è veramente molto, molto tanta roba, quindi siamo molto contenti. Per te è stato un europeo comunque sia felice, hai iniziato un po' il ritardo rispetto alla Coppa del Mondo ma nella seconda parte sei riuscito bene. Anche ieri in un momento difficile della squadra tu sei uno di quelli che ha dato il contributo più importante. Sì, potevo fare meglio sicuramente però devo ammettere che sto cercando di raggiungere un livello medio di prestazione elevato senza avere quei bassi che ogni tanto mi contrastinguevano. Sono vato l'anno inizialmente, va bene. Succedono ancora, succedono ancora per carità però sono contento perché appunto riesco a rendere mediamente di un dato più bello. Un'ultima, una dedichetta per questa medaglia? Una dedichetta a tutti noi che ci siamo ammazzati di lavoro dal 100% quotidianamente dal 3 agosto a Cavalese fino ad oggi e veramente era immeritata un'eventuale medaglia di legno quindi ce la siamo andati a conquistare con i denti perché c'è fiducia, c'è voglia di lavorare insieme. Come ho detto prima, abbiamo sempre dato il 100% perché c'è la condizione mentale giusta e quindi la dedica a tutti noi.